10 persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dalla GP distrettuale della città calabrese dello stretto su richiesta della locale procura. I destinatari delle misure, ritenute appartenenti a vario titolo al clan dell'Andrangheta Iamonti di merito portosalvo, sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso. La misura cautelare eseguita è la conseguenza della sentenza di condanne messa lo scorso gennaio dal GUP in sede di giudizio abbreviato che ha imposto la rivisitazione dei precedenti giudizi di annullamento delle misure cautelare del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria o, in un caso, di rigetto della richiesta di misura cautelare del PM da parte del GIP in ordine alla gravità indiziaria.